buongiorno a tutti ben ritrovati con dietro le quinte il consiglio di stato con un decreto monocratico firmato dal mio eletto presidente franco frattini ha sospeso la sentenza del tar del lazio del 15 gennaio scorso che a sua volta aveva annullato la controversa circolare sulle terapie domiciliari per la covid 19 ripristinando così il protocollo ministeriale tachipirina e vigila attesa la decisione troverebbe fondamento nel fatto che nella circolare non vi fossero delle prescrizioni ma solamente delle raccomandazioni che secondo il ministero rappresentavano le migliori pratiche ci troviamo dinanzi a un vero e proprio colpo di scena perché una decisione che si doveva prendere su basi scientifiche su basi mediche invece si è trasformato in una vera e propria battaglia legale a colpi di sentenze e tra l'altro non è nemmeno finita qui perché il consiglio di stato ha fissato la camera di consiglio per dibattere la questione il prossimo 3 febbraio e speriamo che poi ci sarà finalmente un punto fermo a questa vicenda facendo così però il protocollo speranza tachipirina e vigila attesa è tornato a essere valido proprio quel protocollo tanto criticato perché perché si è rivelato totalmente disastroso nei fatti perché la circolare del ministero della salute che cosa ha fatto ha letteralmente impedito ai medici di curare i propri pazienti ha legato le mani a questi medici e ha impedito ai pazienti di accedere alle cure precoci domiciliari in molti casi la loro situazione poi è degenerata e hanno dovuto poi essere trasportati in ospedale ricoverati proprio perché ormai sappiamo che questa patologia dovrebbe essere curata da subito soprattutto nei primi due tre giorni esattamente l'opposto di quello che invece impone il protocollo tachipirina e vigila ci sono stati grazie a dio tantissimi medici che in barba a queste linee ministeriali hanno fatto quello che dovrebbe essere il loro lavoro la loro vocazione cioè hanno visitato e hanno curato i propri pazienti di certo non somministrando la tachipirina e aspettando la discesa dello spirito santo questi sono i veri eroi che invece vengono poi perseguitati dai media appunto dalla dalla stampa e dalla politica questi sono coloro che si sono rivelati non dei vie che esecutori non dei vie che grigi burocrati che seguono semplicemente delle linee dei protocolli che gli vengono appunto affibbiati dal dall'alto senza metterli minimamente in discussione quindi senza neanche seguire secondo scienza e coscienza quello che dovrebbe essere il vero lavoro di un medico fatto sta che comunque il governo ha impedito ai cittadini ricordiamolo di accedere alle cure domiciliari precoci che sarebbero invece fondamentali proprio nel contrasto nella cura della covide 19 hanno paralizzato la sanità territoriale hanno portato al collasso l'intero sistema ospedaliero con le drammatiche conseguenze che ben conosciamo speranza inoltre la grande responsabilità di non aver mai voluto ascoltare non soltanto la testimonianza di tutti quei cittadini tutti quei pazienti che sono guariti grazie alle cure domiciliari ma non ha voluto neanche ascoltare la testimonianza di quei medici che non essendo stati dei burocrati non essendo dei burocrati hanno seguito in scienza e coscienza quello che si sentivano di di fare hanno curato questi pazienti non ha voluto ascoltare le loro testimonianze ha voluto mantenere continuare a proseguire con questo protocollo che si è invece verificato nei fatti assolutamente disastroso perché semplicemente ha ignorato le numerosissime esperienze cliniche portate avanti dei medici di base alcuni di essi sono stati addirittura perseguitati perché evidentemente in questo in questo paese non si perseguita e non si criminalizza soltanto il dissenso ma anche e quelle persone che fanno il loro lavoro ma che non sono appunto dei viechi esecutori dei viechi burocrati la politica del governo infatti non so se vi me ne siete resi conto ha puntato solo ed esclusivamente sulla politica vaccinale sulla politica dell'obbligo vaccinale cioè l'idea che si è fatta passare che si continua a far passare e quella secondo cui l'unica arma per contrastare la covid 19 sia il vaccino l'unica arma secondo costoro non esisterebbero delle cure le cure sarebbero totalmente inefficaci quest'idea la si continua a promuovere a divulgare nel nel tessuto sociale nell'opinione pubblica soprattutto grazie ai media in barba poi anche per esempio a un caso abbastanza paradossale come quello recente di massimo galli che nonostante abbia il booster nonostante sia uno dei più fanatici sostenitori della terza quarta quinta dose fino all'infinito e poi è stato risultato positivo ha preso la covid e poi si è curato in ospedale con le monoclonali eppure eppure sebbene anche lui si sia curato con una terapia che per mesi è stata osteggiata quella delle monoclonali è stato in qualche modo proprio l'esempio che le cure funzionano ovviamente devono si deve poter accedere a queste cure mentre invece il governo continua a insistere sul fatto che non esistano che l'unica arma sia solo ed esclusivamente il vaccino ed evidentemente il protocollo speranza tachipirina e vigilattesa serve proprio questo a continuare a diciamo a sostenere questa narrazione la narrazione che piace e che fa comodo per evidenti interessi che noi adesso non vogliamo certo tirare in ballo però c'è un'altra questione su cui pochi si sono soffermati però alcuni maliziosi lo hanno in qualche modo captato questa curiosità questa ambiguità per cui questo decreto monocratico è stato casualmente firmato dal nuovo eletto presidente franco frattini non eletto presidente del consiglio di stato noi conosciamo bene la carriera di franco frattini la cosa che ci incuriosisce è che questa sentenza che ha portato alla sospensione della sentenza del Tar del Lazio ci viene da frattini e frattini il nome di frattini nei giorni scorsi circolava in diversi ambienti perché sarebbe stato il piano B il candidato del centrodestra nel caso Berlusconi si fosse poi defilato nel caso in cui comunque il centrodestra non non avesse poi portato avanti la candidatura di Berlusconi ed è molto curioso perché qua abbiamo un presunto candidato alla corsa al colle al quirinale franco frattini che guarda caso con questo blizzo con questo colpo di scena fa un immenso favore al governo attuale al governo Draghi e a Speranza e gli regala proprio questa specie di goal gli regala questo assist salvandolo in qualche modo davanti all'opinione pubblica e ai giornali che non potevano continuare a ignorare la sentenza ovviamente del Tar del Lazio eppure è intervenuto in consiglio di stato guidato dal nuovo eletto presidente franco frattini che ha fatto questo immenso favore a Speranza e proprio il nome di frattini continua a girare in certi circoli come un candidato papabile per il colle è tutto ovviamente curioso, io ve la butto lì, voi ovviamente vi farete la vostra idea maturerete la vostra idea, fatto sta che in qualche modo in questa intricata vicenda una vicenda che di scientifico non ha proprio nulla, anzi l'esatto opposto rientra anche la lunga ombra del colle, fatto sta che sembra che vi siano tantissimi giochi di potere tantissimi interessi e conflitti di interessi in ballo l'unica cosa che sappiamo con certezza è che tutte le misure che sono state adottate fino qua non solo si sono rivelate assolutamente disastrose e non solo si sono rivelate nella loro assenza di contrasto alla crisi vera e propria a partire dal Green Pass che non è una misura sanitaria ormai lo sanno pure le mattonelle del mio bagno ebbene però si continua ad andare avanti perché bisogna mantenere questa narrazione e in tutto questo controverso ma soprattutto intricato gioco rientra anche, può rientrare forse anche la corsa al colle vedremo che cosa succederà sicuramente nei prossimi giorni e sguardo soprattutto al 3 febbraio per vedere che cosa deciderà la Camera di Consiglio che dovrà dibattere proprio su questa questione e vedremo, scopriremo finalmente se resterà valido il protocollo Speranza, Tachipirina o Vigelatteso se finalmente seguendo invece le linee del Tar del Lazio del 15 che si era espresso il 15 gennaio scorso in qualche modo si renderà giustizia a tutti quei medici che per mesi hanno ignorato un protocollo che ritenevano assolutamente ingiusto e disastroso e hanno fatto il loro lavoro, cioè curare i pazienti e non eclissarsi e nascondersi dietro una circolare assolutamente assurda